Il giornalista e scrittore americano Herbert Osbury nei primi anni del Novecento fu un autore di svariate opere che trattavano la storia del crimine. Prima tra tutti The Gangs of New York, quell'opera che permise poi a Martin Scorsese di ispirarsi e creare il film omonimo. Nel 1936 però questo autore pubblicò la storia dei famigerati pirati che erano attivi nel Golfo del Messico e nel Mar dei Caraibi, dediti al saccheggio, all'assalto delle navi nemiche, al contrabbando, allo schiavismo, spietati corsari e pirati che però avevano una particolarità poiché provenivano dall'Europa e in particolare dall'Italia. I pirati italiani Vincent Gambi e Louis Kigizola. Siamo nei primi anni dell'Ottocento, la cosiddetta epoca d'oro della pirateria si era conclusa già da un pezzo, poiché tutti i personaggi che siamo abituati a conoscere grazie alle storie d'avventura come Edward Teach, Barba Nera, Calico Jack, Bartholomew Roberts, Henry Morgan, Anne Bonny, eccetera eccetera, avevano vissuto più di cento anni prima. Sul finire del seicento e gli inizi del settecento, poiché da quel momento in poi le marinerie inglesi, francesi e spagnole cominciarono a setacciare i mari per ripulirli di tutti quei criminali, ponendo fine così all'indipendenza dei bucanieri che non erano più liberi di assaltare tutto quel che volevano ma anzi furono legalizzati ed è per questo che i saccheggi in realtà e la pirateria non si fermò mai, poiché assunse un altro nome, ovvero la guerra di corsa. I capitani corsari al comando di navi armate per la battaglia portavano con loro delle lettere di marca legittimate dalle varie potenze europee che consentivano loro di assaltare le navi nemiche. Perciò, per fare un esempio, un corsaro assoldato da sua maestà britannica avrebbe potuto assaltare i nemici della corona inglese, che potevano essere francesi o spagnoli, tenendosi il carico in caso di vittoria e di conquista e persino la nave stessa, facendo così enormi bottini. Col tempo la guerra di corsa diede origine a una nuova età d'oro della pirateria, poiché cominciarono a emergere nuove realtà politiche indipendenti che intendevano esercitare il diritto internazionale, nella fattispecie emettere lettere di marca, assoldare corsari. La Repubblica Indipendente di Cartagena, ad esempio, che si liberò dal gioco spagnolo, cominciò ad assoldare corsari e i corsari di Cartagena potevano attaccare le navi inglesi, francesi e spagnole. Di fatto, tutte quante. Nei primi anni dell'Ottocento, dunque, la pirateria nel Golfo del Messico e nel Mar dei Caraibi era più spietata che mai. I corsari imperversavano ovunque, attaccavano chiunque, specialmente quelli che possedevano una lettera di marca di realtà politiche indipendenti. Tuttavia, sullo scacchiere mondiale si stava affacciando una nuova potenza, da poco divenuta indipendente anch'essa, ovvero gli Stati Uniti d'America. La dichiarazione di indipendenza statunitense e la cacciata degli inglesi dalle colonie diedero origine a una nuova serie di conflitti, moltissimi prima di giungere alla completa unificazione dei 50 Stati per come li conosciamo noi oggi. Tassello importantissimo di quella prima fase espansiva fu proprio lo sbocco sul Golfo del Messico, presso New Orleans, ovvero la città più importante che sorgeva alla foce del Mississippi, un grandioso fiume che percorre in lungo e largo il territorio americano, e che fungeva da punto nevralgico. Chi conquistava New Orleans aveva poi l'accesso commerciale di tutto il Nord America. Dopo l'acquisizione di New Orleans da parte degli americani, l'asse commerciale, fino a quel momento incentrato su Cartagena, si spostò a nord, proprio New Orleans, dove nei pressi della baia di Barataria sorse una nuova tortuga, una città governata da criminali, taglia gole e pirati, sedia organizzativa dove si diffondevano tutte quelle rotte che poi avrebbero portato lo smaltimento alla vendita delle merci di contrabbando. I pirati potevano garantire un prezzo così vantaggioso per le loro merci di contrabbando da annientare qualsiasi concorrenza, soprattutto quella leale, e i mercanti che andavano a trattare con loro divenivano ricchi molto alla svelta, ma dovevano avere fegato, poiché quello era un covo di criminali molto pericoloso. Risse, rapine e duelli mortali per la spartizione del bottino divennero comuni e i mercanti di New Orleans cominciarono a temere di visitare l'isola per contrattare merci o per avere altri rapporti con i corsari. Gli affari si svolgevano alla rinfusa, ognuno per sé. I pirati si autogestivano con difficoltà finché non giunse colui che riportò ordine nel caos dei filibustieri, Jean Lafitte, un vero e proprio re dei pirati, attorno al quale si formarono così tante leggende da renderlo una delle figure più romanticizzate della storia della pirateria ottocentesca. Un uomo di carnagione chiara, con capelli e occhi neri e la barba ben rasata. Lo descrivono così alcuni. Un bell'uomo ben formato, alto più di un metro e ottanta, di corporatura robusta, con grandi occhi color nocciola e che generalmente portava i baffi. Qualcun altro invece lo descrive come piuttosto esile, con mani e piedi piccoli, femminili. E dicono anche che quando conversava su un argomento serio, stava per ore con un occhio chiuso, assumendo un aspetto duro, truce, severo. Lafitte doveva fronteggiare una situazione molto difficile, per questo decise di aiutarsi alleandosi con i pirati più temibili dell'epoca, tra cui figuravano proprio due italiani. Luigi Ghizola, detto Nécoupé, per via del naso mozzato, e infatti Nécoupé vuol dire proprio naso mozzato, a causa, si dice, di un colpo di sciabola che glielo troncò di netto. Oltre a lui vi era anche Vincent Gambi, un italiano burbero e irascibile, che si vantava di essere un vero e proprio soldato sanguinario, che aveva ucciso una ventina di uomini a colpi d'ascia. Chi Ghizola, Gambi e poi molti altri capitani dei pirati che assieme ai loro seguaci composero una forza di circa 400, se non addirittura 500 individui, armati fino ai denti. Oltre a 200 donne, che stando alle cronache erano pericolose quanto i loro colleghi uomini. Lafitte costruì dei magazzini dove stivare i proventi delle razzie, che oltre all'oro e all'argento contribuivano a incrementare a dismisura le sue ricchezze. Spezie, medicine, arredamenti, opere d'arte. Insomma, Jeanne non era di certo quel tipo di pirata che nascondeva il tesoro sotto la sabbia. Nell'isola venne anche costruito un rumoroso bar o un bordello e un luogo dove rinchiudere gli schiavi, dove avevano luogo le aste. Jean Lafitte quindi era un criminale, un tagliagole, un pirata, ma anche uno schiavista. Il re dei pirati governò sulla Baia per circa un decennio, mettendo sempre più o meno tutti d'accordo, o quasi, poiché in una delle numerose riunioni per definire i termini di ingaggio delle navi nemiche e stabilire delle strategie dell'alleanza piratesca, Jean Lafitte manifestò la volontà di non attaccare le navi di questa potenza nascente, gli Stati Uniti. Tuttavia, gli altri pirati non erano d'accordo. Soprattutto Vincent Gambi, l'italiano, il sanguinario, il quale abbandonò la riunione furioso. Lui voleva essere libero di attaccare tutti quelli che voleva. Poco dopo raggiunse Jean Lafitte un luogotenente del pirata italiano, il quale lo sfidò apertamente. Sfidò il re dei pirati puntandogli la pistola contro, dicendo ad alta voce «Gli uomini di Gambi rispondono soltanto a Gambi». Lafitte, però, non rispose, o almeno non lo fece con le parole, estrasse la pistola e gli sparò. Tale ettonante risposta venne compresa da ogni bucaniere della Baia e nessuno parlò più di ribellione, pirati italiani compresi. Nell'ottobre del 1813, il governatore della Louisiana decise di porre fine a questa egemonia piratesca. Tuttavia, parte della popolazione, soprattutto di New Orleans, vedeva di buon occhio questi pirati, poiché a causa dell'embargo e della guerra con l'Inghilterra, alcune merci erano reperibili soltanto se acquisite dai pirati, dai contrabbandieri. Per questo, quando il governatore mise una taglia sulla testa di Jean Lafitte del valore di 500 dollari, il giorno seguente, per le strade di New Orleans, comparvero centinaia di manifesti, tutti che recavano l'immagine del governatore stesso e una dicitura sottostante. 5.000 dollari, vivo o morto. Jean Lafitte era diventato così potente e aveva raccolto così tanto consenso presso la popolazione da poter schernire il governatore stesso mettendogli una taglia sulla sua testa. Ma questo scherzo, purtroppo, gli costò caro. Gli Stati Uniti cominciarono a pensare di liberarsi di quei famigerati pirati che contrabbandavano merci in tutto il paese. Nel frattempo, l'Inghilterra contattò segretamente Jean Lafitte per fargli ottenere un salvacondotto. Se i pirati si fossero schierati in guerra dalla parte britannica contro gli americani, allora avrebbero ottenuto il perdono di sua maestà. 30.000 dollari in oro più il ruolo di capitano della marina. Tutto questo fu offerto a Jean Lafitte per spingerlo ad attaccare New Orleans, il punto chiave per controllare l'intero Golfo del Messico. Lafitte ci pensò a lungo all'offerta inglese finché non decise di andare a spifferare tutto proprio agli americani. Andò a dir loro che gli inglesi intendevano attaccare molto presto. Lui e i suoi pirati avrebbero combattuto per gli Stati Uniti se avessero ottenuto in cambio il completo perdono di tutti i loro reati. Questo faceva parte del piano di Lafitte e non si trattava di filantropia, di generosità o altro. Semplicemente i pirati di Barataria Bay volevano che gli americani mantenessero il controllo di New Orleans poiché da New Orleans partiva il Mississippi che poi raggiungeva ogni città del Nord America in mano agli Stati Uniti. Quindi se la città fosse caduta sotto il controllo degli inglesi i pirati non avrebbero mai più potuto smerciare i frutti del loro contrabbando agli Stati Uniti. Gli americani credettero alle parole di Jean Lafitte tuttavia non volero scendere a patti con il criminale. Anzi, ordinarono un massiccio attacco contro la colonia pirata. Il 13 settembre 1814 il commodoro Daniel Patterson salpò a bordo della USS Carolina accompagnato da sei cannoniere e una nave d'appoggio. La flotta si dispose a largo dell'isola principale su cui si trovava la colonia pirata con l'intenzione di cominciare il bombardamento. Ma i pirati si schierarono contro di loro. Dieci navi da guerra tutte armate di filibustieri pronti a sacrificarsi per vincere contro il nemico statunitense. Tra di loro vi erano i capitani pirata più famosi del Golfo del Messico tra cui i due italiani Vincent Gambi il sanguinario e Luigi Ghizola naso mozzato. Erano pronti a sacrificarsi ma non lo fecero perché la marineria statunitense era nettamente superiore in armamenti e uomini e tecnologie e dunque dopo una mattinata di bombardamenti i pirati furono costretti a scappare a fare quello che fanno meglio quindi incendiarono le navi che non erano ancora state affondate per non farle catturare e fuggirono tutti quanti. Gli americani proseguirono l'assalto dell'isola e quando scesero a terra non incontrarono alcuna resistenza perché la maggior parte dei fuori legge era fuggita. A termine dell'operazione furono catturate solo 80 persone oltre a 6 golette, una feluca e un brigantino. Il valore delle merci requisite però era stimato in 500.000 dollari. A seguito dell'operazione militare fu istituito un processo e l'avvocato che rappresentava Jean Lafitte e gli altri capitani dei pirati come Chigisola e Gambi sostenne la difesa più ovvia ovvero che non si trattava di pirati ma di corsari in possesso di regolare lettera di corsa della Repubblica Indipendente di Cartagena dunque persone legittimate a mantenere navi da guerra e a condurre operazioni di guerra. Il risvolto ancora più divertente è che l'avvocato giustificò lo schieramento delle 10 navi da guerra dei pirati contro gli Stati Uniti come in realtà una disposizione per la fuga. Tali navi in realtà non si trovavano lì per combattere ma per fuggire casualmente erano finite in diretto contatto con quelle navi nemiche ed era partita una scaramuccia ecco ma non era intenzionale. Nonostante la linea difensiva dell'avvocato dei pirati a tratti comica il risvolto del processo fu effettivamente a favore dei pirati non tanto per le qualità giuridiche degli stessi ma per via della situazione molto pericolosa poiché l'Inghilterra era sempre lì ed era sempre pronta ad attaccare New Orleans. L'offerta di Lafitte di aiutare gli Stati Uniti infatti era ancora valida quei contrabbandieri ci tenevano più di ogni altro alla difesa della città poiché nonostante avessero perduto una battaglia il loro impero poteva essere ricostruito alla svelta i generali americani discussero a lungo sulla questione secondo alcuni l'attacco di Patterson aveva distrutto una potenziale prima linea di difesa composta proprio dai pirati secondo altri invece era impensabile riporre fiducia nell'onore di assassini e ladri finché finalmente gli americani non decisero di fidarsi dei filibustieri e di arruolarli tra le fila dell'esercito statunitense i pirati si schierarono a fianco dell'esercito nella battaglia di New Orleans l'8 gennaio 1815 è lo stesso generale dell'esercito Andrew Jackson futuro presidente degli Stati Uniti a descrivere le azioni le imprese eroiche dei pirati di Barataria il generale non può evitare di esprimere la sua calda approvazione per il modo in cui questi signori si sono comportati uniformemente sotto il suo comando e per la galanteria con cui hanno riscattato l'impegno che hanno dato all'inizio della campagna per difendere il paese ovviamente Jean Lafitte e i suoi alleati pirati si occuparono dell'artiglieria prelevati i cannoni dalle navi da guerra li posero sulla terraferma e li usarono per battere le linee gli schieramenti di fanteria degli inglesi in special modo Vincent Gamby si distinse per la capacità con cui falciò i nemici proprio in virtù di essere uno dei sanguinari più temibili del Golfo del Messico grazie al contributo dei pirati gli americani si assicurarono una vittoria schiacciante e la guerra si concluse New Orleans era salva il 6 febbraio 1815 il presidente Madison concesse il perdono gratuito e completo ad ogni abitante delle colonie di Barataria Lafitte Naso Mozzato Chigisola e persino il feroce Gamby ottennero la cittadinanza degli Stati Uniti purtroppo però si trattava di una formalità poiché i pirati restavano tali anche e nonostante gli encomi si racconta infatti che Jean Lafitte durante il ballo per i festeggiamenti della vittoria americana si avvicinò al gruppo di ufficiali statunitensi ricevendo in cambio occhiate torve e sguardi miserevoli dunque quando uno di loro uno degli ufficiali presentò Lafitte agli altri un po' ridacchiando Lafitte aggiunse candidamente di non essere semplicemente il signor Lafitte ma di essere il signor pirata Lafitte forse fornendo l'ispirazione per la celebre battuta di Jack Sparrow nella serie dei Pirati dei Caraibi poche settimane dopo essere stato graziato dal presidente Madison Jean Lafitte rinunciò alla vita da onesto cittadino e salpò con lui andarono un centinaio di uomini i migliori dei suoi fratelli di spada tra cui Louis Kegisola naso mozzato e il terribile Vincent Gambi ma stavolta l'alleanza con i pirati italiani non durò a lungo Kegisola infatti tornò a New Orleans mentre Vincent Gambi divenne il pirata solitario e sanguinario di sempre Saccheggiò e affondò una ventina di navi nei successivi quattro anni per poi essere trovato morto ucciso dalla sua stessa ciurma con la sua stessa ascia mentre dormiva su un mucchio di oro rubato così si conclude la storia dei pirati italiani nel golfo del Messico sepolta negli abissi marini e appena sfiorata dalle pochissime fonti storiche che li citano se questa storia ti ha appassionato seguimi così non perderai le prossime leggende affilate ciao leggende affilate gli episodi più avventurosi delle antiche cronache narrati da Lorenzo Manara grazie a tutti